Buon samore a tutti, oggi dedichiamo il personaggio al professor Giovanni Gordiani. Di lui conosciamo un discorso di carattere importante, impegnativo e strutturale come discorso del Parlamento europeo, però vogliamo conoscere invece il Giovanni Gordiani praticante di arti marziali, il che non guasta perché so che qualche birchino ha chiattacciato che non conosce il carattere tradizionale. Così dicono, ma la storia, come c'è scritto su Samurai, la storia è testimone del tempo. E soprattutto prima si fa e poi si scrive. Prima si fa e poi si scrive, quindi abbiamo avuto la fortuna di iniziare un percorso di karate tradizionale un po' dopo la nascita di Samurai. Samurai è nata a marzo del 1976, io ho avuto la fortuna di avere una palestra a Firenze, in via di Soffiano, proprio a 50 metri da casa. E quindi l'interesse che c'era all'epoca per tutto ciò che erano le arti marziali, sinceramente non si distingueva tanto, erano film di Kung Fu, però era un qualcosa di orientale. Una bella palestra vicino a casa mi ha portato a praticare un karate tradizionale. Quindi se qualche birichino dice che io ho il karate tradizionale, io non l'abbia mai fatto, ma insomma forse è testimoniato da una storia lunga e ancora oggi quando pratico karate, magari da solo, faccio un karate assolutamente tradizionale. Parlaci un po' dell'arrivo a praticare karate, quando hai conosciuto ad esempio il tuo maestro, possiamo dire il maestro Miura, ma soprattutto il capo della ski di cui poi diventerai presidente per l'Italia, Kanazawa. Maestro Kanazawa, certo, certo. Raccontaci un po'. Io ho iniziato, eravamo tutti fisica per due anni, poi il maestro Paladini scelse la strada di seguire il maestro Miura, è stato un percorso bellissimo, intenso ed è durato fino a che il maestro Miura mi ha onorato la possibilità di diventare presidente della federazione nel 2007. 2008 dove sono rimasto per cinque anni e ho cercato di combinare un po' la mia conoscenza dell'arte marziale, perché nel frattempo nel 92 ero andato a Bruxelles e nel 92 avevo iniziato insieme a presidente Panteris Vassilio, che è ancora oggi un nostro membro attivo di Euretic Sezia, abbiamo iniziato un piccolo club di karate amatoriale nel 92, che però andava un po' in parallelo a quella che era la mia professione di giurista della Commissione Europea. E quindi l'interesse all'arte marziale, al karate, si è un po' allargato a tutte quelle che hanno l'arte marziale, perché il centro è diventato un centro di arti marziali e non solo di karate shoto, che anche era un po' la mia e la nostra storia. Che c'era anche del buono e da imparare da altre arti marziali che non conoscevamo, perché non c'era YouTube, non c'era Internet. Quindi si leggeva qua e là, si leggeva su Samurai, si leggeva all'estero, era difficile anche reperire Samurai e quindi bisognava solo andare a guardare e capire. L'allargamento di questa visione ha fatto sì che la creazione dello spirito che io chiamo lo spirito Ezia, uno spirito di una visione allargata e non dell'arte marziale rigida e dogmatica, è permeato in questo sistema che è nato gradualmente, dal 92 con la crescita del diritto europeo dello sport e le famose sentenze Bosman e tutto ciò che c'era di interesse per avere una base giuridica, è andata di pari passo a una crescita di karate, un karate a visione allargata, non dogmatica, dove si deve sempre aggiungere qualche cosa, ma non toglier niente di quello che è il proprio background. Questo penso che sia un po' lo spirito Euretics Ezia che si è consolidato in un percorso dagli anni 2000, dalla nascita dell'educazione attraverso lo sport europeo, si è consolidato in un sistema che si è di certificazione, perché c'è un rilascio di certificato vero, ma è soprattutto di contenuto della certificazione, quindi di aggiungere sempre ingredienti a un quadro che sia comprensibile all'interno di tutta l'Unione Europea. Questo vuole essere il piccolo valore aggiunto del sistema che prende le mosse dall'origine e dalla tradizione, ma si allarga e cerca di attingere sempre un qualcosa di nuovo, perché le scuole di karate, di jiu-jitsu, di aikido, sono scuole d'arte e questo non bisogna dimenticarlo. Nel momento in cui si rende tutto dogmatico si perde l'aspetto dell'arte, invece questo deve essere il contenuto della certificazione, il valore aggiunto dell'armonizzazione degli standard che deve essere coronato con un certificato, un diploma, perché alla fine, a the end of the day, come dicono, è qualcosa che comprovi, ci vuole. Al vino ci vuole l'etichetta DOC G e anche a noi, perché siamo in un mondo dove si va su un mercato, si va su un mercato e si deve offrire sì un certificato, un qualcosa che sia appeso, ma un qualcosa che l'appeso debba dimostrare quello che si è appreso e quindi è il contenuto che diventa la più importante del quadretto che comunque è importante per le nostre camere e per i nostri salotti. Professore, una cosa importante che non tutti sanno, tu detieni una cattedra alla Salpone di Parigi e soprattutto spiegaci bene il club che avete aperto a Bruxelles, non è l'avete aperto a Bruxelles, diciamo nel quartiere Pinco Ballino, ma l'avete aperto nel centro di Bruxelles dove c'è il Parlamento Europeo. Spiegate queste due cose che sono estremamente importanti per i nostri ascoltatori. Allora, sempre è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima il diritto europeo o il club di karate della Commissione Europea? Sono nati insieme e l'uno prima e l'uno dopo l'altro. All'inizio con i funzionari della Commissione Europea ci riunivamo in palestre normali fuori dall'istituzione perché non c'era una base giuridica europea. Quando poi nell'evoluzione si è creata una base giuridica europea dello sport, si è creato un centro sportivo vero e proprio, un centro sportivo e del tempo libero della Commissione Europea, lì è cresciuto questo club di karate e in parallelo è cresciuto l'interesse mio personale per il diritto dello sport. C'era anche prima, ma prima mancava un articolo, c'erano delle sentenze, c'era la famosa sentenza Bosman, la sentenza Mutu, tutto ciò che è stato costruito sul mutuo riconoscimento dei diplomi, ma mancava l'essenziale che è un articolo. Quando con il Trattato di Lisbona c'è stato questo riconoscimento, improvvisamente c'è stata anche un'esplosione, un'esplosione di normativa, di raccomandazioni per armonizzare tutto il sistema qualitativo che ruota intorno al mondo dell'educazione e dello sport. Quindi il dojo, il centro sportivo, è nato in parallelo con la crescita del diritto europeo e ha avuto il suo consolidamento finale nel 2009-2010, quando con l'articolo 165 del Trattato di Lisbona c'è stata la prima, è stato praticamente istituito una cattedra, all'interno io ero speaker della Commissione europea e lì si inserì per la prima volta l'argomento, la materia di insegnamento all'interno del centro di conferenze della Commissione europea. Da lì è stato naturale il passaggio perché nelle visite istituzionali dell'Università, nel 2016 la rappresentanza dell'Università Sorbona, dopo una conferenza mi invitò e mi propose questa cattedra di Visiting Professor di diritto dello sport e lì è stata un po' una sfida perché la storia è breve e quindi si inizia a raccontare il diritto dello sport con la sua nascita, con la sua crescita, ma siamo ancora in fase embrionale perché possiamo parlare, il primo riconoscimento formale 1997 Trattato di Amsterdam, ma si parla di 24 anni fa, quindi è tutta una sperimentazione, è tutta un'evoluzione ed è per questo che lo spirito dell'apprendimento permanente deve essere trasferito nel sistema di training, di verifica, di validazione e di certificazione del servizio educativo che vuole essere dato dal sistema Euretic Sezia, in grossa e forte collaborazione con tutti i suoi partner, quindi non qualcosa che è calato dall'alto, ma una crescita, come si dice, bottom up dal basso per arricchire sempre di contenuti questi quadretti del quadro europeo delle qualifiche laddove le conoscenze, le competenze e le abilità si devono ritrovare, intersecare e ognuna può dare un qualcosa all'altro. Che cos'è questa? La relazione con quello che ho appreso sui tatami, dove si trova? Io l'ho ritrovata immediatamente nel sistema a tre colonne, il sistema a tre colonne dell'EQF, la colonna centrale è l'abilità, cioè il dimostrare il saperlo fare, è nel nostro mondo delle arti marziali il percorso QDAN, deve fare, non deve dire come diceva qualche maestro, prima fa puoi parlare e questo ti dà la colonna centrale dell'EQF del quadro europeo delle qualifiche. A questo si aggiunge conoscenza, quindi la conoscenza teorica, la cultura, tutta la filosofia, tutto ciò che sta dietro e la competenza di poterlo trasmettere, quindi il saper fare e il saper far fare. In tutto questo si corona un percorso che è inizialmente nella gioventù ovviamente più fisico, che poi dopo deve essere però arricchito perché al momento in cui si passa dalla fase di apprendimento, dai risultati di apprendimento a rimetterlo in pratica nell'insegnamento, ecco che la cultura e il saper far fare e il saper trasmettere diventa un elemento assolutamente importante. Quindi tu che sei fiorentino, toscano, come diciamo alla parte i maledetti toscani, però quello che tu ci hai detto in modo molto ampio e soprattutto chiaro e preciso, lo possiamo legare al suo modante, nati… no, a vivere come brutti ma a perseguire virtù e canoscenza per l'arresto difficile. Comunque sì, bisogna guardare, andare oltre alle colonne d'Ercole e questo forse è stato quello che a 26 anni mi ha spinto andare a Bruxelles e a capire, a intersecare culture per capire che le competenze non vengono da un nucleo originario, ma bisogna andare a cercarle e cercarle tutti i giorni. D'altra parte un uomo di mare ha delle visioni molto ampie degli orizzonti, l'uomo della montagna ha degli orizzonti molto piccoli, quindi diciamo che tu andando a Bruxelles di che il mare non c'è, ma comunque c'è quello che è l'ideologia di 28 paesi, oggi sono 27, il che ti ha allargato la tua mentalità, hai parlato diverse lingue, hai conosciuto gente di livelli diversi, di preparazione sociale, tecnica, operativa e professionale diverse e ti hanno chiaramente galvanizzato se vogliamo. Era anche la bellezza del centro istituzionale europeo dove sul tatami, nella palestra, dentro, si ripete dentro l'istituzione europea, si sta tutti insieme, c'è un'interazione molto forte a tutti i livelli, dai funzionari dei livelli più bassi ai funzionari e dirigenti dei livelli più alti e questo e ognuno porta la sua cultura, abbiamo avuto la fortuna di conoscere i migrati di seconda generazione, di terza generazione in Belgio che hanno apportato le loro culture e nel centro interistituzionale tutto questo si fa tutti insieme e diventa un qualcosa di non discriminatorio naturale e tutto questo aggiunge valore, conoscenza e competenza nei nostri percorsi, il giurista con l'economista, l'economista con il portiere, tutto insieme, questo dà valore aggiunto all'arte e apre le strade. Nel mio caso, quando tu mi hai invitato a fare la lezione al centro e così via, al primo momento ero molto intimorito, ma non per l'insegnamento al dojo, ma per la struttura, l'impianto, andare a Bruxelles e dire faccio la lezione nel centro tecnico operativo della Commissione europea, insomma, che poi ci sia un rapporto di feeling, perché quando uno conosce le cose, le cose vengono fuori da sole, però al primo momento c'è stato questo attimo fuggente, però oggi come oggi, che hai portato non un certificato in aggiunta, ma il certificato della Commissione europea anche in ambito delle arti marziali, quindi come concetto di tutti i sport, come ti senti? È una sfida quotidiana di aggiornamento continuo, perché fortunatamente i nostri standard che riflettono quelli europei sono in continua evoluzione e quindi se uno si adagia è finito. E' una responsabilità importante, perché da una parte ormai per me c'è una facilità nel comprenderli, perché è la mia materia principale, ma dall'altra c'è la difficoltà di trasmetterli e nella difficoltà di trasmetterli c'è un qualcosa che ci dà la sfida di tutti i giorni di dover comprenderlo meglio per poter trasmetterlo meglio. Noi siamo agli inizi, abbiamo avuto il riconoscimento come standard qualitativi di alto livello del Parlamento europeo non tanti anni fa, era il 4 ottobre del 2017 e quindi siamo ancora in rodaggio, però ormai è un rodaggio dove stiamo avanzando senza esitazioni e ritrovarci e soprattutto ritrovare tutti i nostri partner, tutte le nostre accademie, scuole certificate a tutti i livelli è un grande valore aggiunto perché apporta ingredienti a queste ricette, se posso fare una metafora culinaria. Noi cerchiamo di attingere alle tante ricette che esistono e a far sì che siano armonizzate per poterci comprendere, perché poi da un'arte marziale c'è un qualcosa che si può trasmettere a un'altra. Da sport apparentemente diversi e invece nella realtà si ritrovano tante cose che si possono ritrasmettere. Come tu sai abbiamo il centro outdoor alla Doganaccia sulla montagna pistoiese nell'Apennino Toscano e anche tante esperienze di contatto con la natura e ritrovano le origini delle arti marziali che principalmente venivano praticate all'aperto e dove i makivara erano alberi. E quindi questo ci fa un po' combinare le esperienze e far sì che queste esperienze ogni volta aggiungano… Ma un po' sorridere anche, se vogliamo, la ricerca moderna delle cose, quando la semplicità era quella che portava alle caratteristiche finali, cioè se vogliamo. Sì sì sì, questo è. Per concludere la nostra bella chiacchierata, i famosi 30 minuti dei samurai, vuoi parlarci proprio della settimana europea che a fine settembre si svolgerà? Quali sono i punti cardini sia per l'Italia che per quanto l'Europa e quali sono le finalità? Dunque, noi quando siamo nati come Euretics Training Academy ETSCA nel 2014, avevamo già esperienza nell'educazione attraverso lo sport che veniva dalla nascita del 2004, dell'educazione attraverso lo sport, quindi dove lo sport diventa un mezzo, non il fine ultimo, non la medaglia. Nel 2015 è venuta fuori la prima settimana europea dello sport e ci ha accompagnato un po' nel nostro percorso. Quest'anno, come lo dovevamo già fare l'anno scorso, ma purtroppo siamo stati online per il discorso Covid, ritorneremo al centro interistituzionale europeo, sempre 23-30 settembre, dove presenteremo le nuove linee guida, i nuovi punti essenziali che in quest'anno e mezzo, che è stato anche un anno e mezzo duro, ma anche di riflessione, si sono apportati a tutto il mondo del coaching, dell'insegnamento dello sport e dell'attività fisica in generale. Quindi le tappe saranno Bruxelles come punto finale, ma ovviamente iniziamo dalla nostra sede outdoor in Doganaccia, il primo ritrovo, quello che chiamiamo Road to the European Week of Sport, quindi tutta l'estate piccole attività preparatorie, e poi un grande happening al Lago di Zeo in collaborazione con World Jiu Jitsu Federation, Kobudo Organization e quindi il tutto, tutti questi mattoncini verranno presentati da tutte le organizzazioni che fanno parte di questa rete a Bruxelles, al centro interistituzionale europeo il 30 settembre. Vuole essere un confronto, non vuole essere uno stage di tipo tradizionale, dove c'è uno che insegna. A me e a tutti i collaboratori piace essere facilitatori, ma essere lì presenti per far sì che le diverse anime… Un interscambio. Sì, è un interscambio vero, per far sì che le diverse anime delle arti marziali, ma adesso ci stiamo ingrandendo tantissimo nel settore del fitness, del wellness, dell'outdoor, specialmente ovviamente essendo in montagna, dello sci, del nordic walking e tutto, perché ci sia interazione. L'interazione dà sempre un valore aggiunto e un qualcosina in più. Bene, come si dice sempre, per concludere, la tua esperienza da ieri, oggi e domani, come la mettiamo? Non è facile, vediamo già la prospettiva, il nostro orizzonte, e tu, da Fiorentini, magari come uomo di mano un po' meno, però il male ce l'avete, noi padani neanche il male. No, il male ce l'abbiamo a Livorno noi Fiorentini, io ho fortunatamente un bel contatto con la città di Livorno, però restiamo in un… ci sentiamo un po' a volte, e questo è il nostro difetto, un po' il centro del mondo, perché ci abbiamo Dante, perché ci abbiamo il Rinascimento, perché siamo un po' guelfi, un po' guelfi, bianchi e neri, siamo maledetti toscani. Esattamente. Però siamo curiosi, e siamo curiosi e non ci accontentiamo di quello che abbiamo ottenuto, si va a vedere, Amerigo Vespucci è andato in America, non è rimasto a Firenze, a Firenze abbiamo l'aeroporto Amerigo Vespucci, da Verrazzano è andato in America. E non ha fatto il ponte di Boca. E non ha fatto il ponte di Boca. Quindi ci resta questo, diciamo, in tutti i difetti dell'essere a volte taglienti e maledetti, come dicevamo alla parte, ma ci resta questa cosa buona che è la curiosità. La curiosità di andare al di là e la curiosità di incontrarci. Non per nulla l'Istituto Universitario Europeo, non so se accidentalmente o quanto, ma sta a Firenze. E lì ci ho avuto io la fortuna, quando ero studente di Scienze Polite a Firenze, di poter già incontrare tutto il mondo, che era il mondo europeo, che andava al di là di quello che era il rapporto provinciale che a volte uno può avere con la propria scuola, con la propria accademia, con la propria università. Quindi se vogliamo possiamo cambiare la famosa canzone, lo porti un cappello a Firenze. No, no, la porti un bacione a Firenze, che è la mia città. Allora, lo porti un certificato a Firenze. Lo porti un certificato a Firenze, che è la mia città, ma quando si parte col vapore, quando si parte col vapore perché poi si impara qualcosa e si riporta a casa. Quindi diciamo che sei, se non soddisfatto perlomeno consideri che sei sulla buona strada per gli obiettivi che ti sei posto in partenza. No, sono molto soddisfatto. Mi rendo conto che è un inizio, però sono molto soddisfatto perché mai mi sarei immaginato in così poco tempo di poter davvero riuscire ad avere un qualcosa di concreto accanto a un certificato che se no apparentemente è solo di carta. Invece io dico sempre il contenuto prima del certificato. Professor Gordiani, tutto sommato io sono un po' geloso. Tu sei arrivato alla Sorbona, che quindi praticamente è una cosa di grandezza incredibile, di immaginazione. Mi ricordo mio porto papà che mi parlava di Sorbona, che l'ho studiato a Sorbona a Parigi. Ma io, da ragazzo di Campania, dalla Bassa Padagna, ero sotto purtroppo all'ombra della statua di Conte Grigno e il Conte a Pisa. Quindi, a parte questo piccolo dettaglio, noi ci vediamo prossimamente su questo schermo. Come ciò da dire? Buon Samurai a tutti perché abbiamo tante cose da dire. Grazie a voi dell'invito. Grazie a voi. Grazie a voi.